Buonasera a tutti, sono Cristiano Franchino, mi occupo di personale, sono responsabile del personale dell'Iveco, parte logistica e commerciale. Oggi abbiamo svolto insieme a BG Building un'attività di team building molto particolare, Cartoon Race. L'attività è andata benissimo, io mi sono divertito tantissimo e non pensavo di divertirmi così tanto. L'attività ha avuto anche un successo tra le persone che hanno partecipato e è stata condotta in maniera eccezionale dai membri del gruppo BG Building. Anche perché abbiamo dovuto affrontare soprattutto nella mattinata un'emergenza, si è messo a piovere proprio nel ben mezzo dell'attività, anzi all'inizio dell'attività, quando si trattava di costruire le imbarcazioni, il gruppo BG Building è stato in grado di spostare la postazione di lavoro dalla riva del fiume ai garage sottostanti all'albergo e di allestire il laboratorio in questi garage. Hanno dimostrato grandissima prontezza nel fare questo e realmente ho visto molte società di team building operare, loro sono veramente first class. Per quanto riguarda l'attività che abbiamo fatto è stata molto interessante e come detto l'attività di cartoon race è stata eccezionale e particolare come attività, mi è piaciuto però soprattutto il pomeriggio dove si è tenuto un intervento formativo mirato a sottolineare gli aspetti positivi e negativi emersi durante l'attività di team building e secondo me questo è servito moltissimo ai nostri dipendenti, alle persone che hanno partecipato a questa attività perché gli ha fatto capire dove sono forti e dove devono migliorare nell'attività di gruppo. L'attività di gruppo, non l'ho detto all'inizio ma è importante sottolinearlo, rivolta alle persone responsabili delle aree commerciali dell'Africa Middle East, quindi l'attività era diretta a fare un intervento formativo per metterli più assieme, siccome operano in realtà così distanti fra di loro e per creare un forte gruppo di lavoro.